Durissimo il Movimento 5 Stelle in merito alla vicenda dell'attacco hacker alla Aslo 1 con accusa al Presidente della Regione Marco Marsilio che per loro non ha avuto e non ha il piano B. In conferenza stampa i consiglieri Taglieri, Fedele, Pettinari, Smargiassi e Stella con la senatrice Gabriella Di Girolamo, firmataria di un'interrogazione parlamentare. Quale riservo vuole mantenere Marsilio e Tuona su una situazione del genere? Mi sembra assurdo sinceramente che il Presidente richiami a questo doveroso riservo. riservo, quando riservo non c'è in questo momento, stiamo parlando di hacker che in questo momento, non voglio parlare di altri, parlo di me stessa, che sono aquilana della provincia dell'Aquila. Hacker conoscono esattamente il mio nome e cognome, il mio numero di telefono, dove abito e perché mi sono sentita male ricoverata in quel dato ospedale della provincia dell'Aquila l'ultima volta e sono liberi di porre in essere ulteriori attacchi. Ad esempio i miei dati personali possono servire per acquisire la mia identità. Quindi in questo momento, quello su cui dobbiamo veramente fare attenzione è questo tipo di accesso che potremmo subire noi tutti i cittadini che abbiamo consegnato nelle mani dell'Asl 1 il nostro numero di cellulare e la nostra mail. Quindi tentativi di frode e quindi chiedo ai cittadini veramente un'attenzione massima fino a quando qualcuno finalmente deciderà di rispondere alle domande che legittimamente stiamo ponendo. In Commissione Sanità ieri il manager romano, così la veria e il governatore, non si sono presentati. Marsilio spieghi, hanno chiesto ai presenti, come sta garantendo i servizi sanitari a circa 30.000 abruzzesi. Non facciamo domande sull'inchiesta. La situazione è gravissima anche alla luce della diffusione di dati sensibili per i 5 Stelle. Insomma, la maggioranza ha fallito di nuovo nella gestione della crisi, anche se si tenta di minimizzare. I pentastellati chiederanno ora al presidente del Consiglio regionale Sospiri di inserire al prossimo Consiglio un punto all'ordine del giorno che spinga il presidente Marsilio a relazionare sulle azioni messe in campo con l'ASL1, ma sarà fondamentale per loro fare delle verifiche su tutte le reti che servono la sanità abruzzese. Il gruppo criminale ha già pubblicato dati sensibili e nel mirino ci sono ora le informazioni dei dipendenti. Il consigliere Smargiassi ha evidenziato pure la sua preoccupazione perché al San Salvatore vengono curati esponenti di spicco della criminalità, B di Matteo, Messina, Denaro, tra gli altri. Il consigliere fedele è stato il primo che ha fatto presente queste difficoltà lo scorso 4 maggio, rilevando che alcune informazioni erano già state pubblicate sul dark web. Non avere un conforto, la presenza, la presa di posizione politica del presidente Marsilio che rassicura la popolazione e spiega alla popolazione cosa è successo, ma soprattutto cosa stiamo facendo per garantire anche adesso l'accesso alle cure sanitarie è un fatto gravissimo e insostenibile. Non abbiamo chiesto che venga a riferire sulle indagini in corso, non abbiamo chiesto che venga a riferire su quelle che sono le attività tecniche che la task force ha messo in atto per contrastare l'attacco ormai avvenuto da Iacra e abbiamo chiesto di venirci a riferire a noi e ai abruzzesi qual è il grado di prestazioni sanitarie che sono oggi disponibili sul territorio per tutti i cittadini.